Cambio al comando del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Il colonnello di scuola di perfezionamento per le forze di polizia, pilota Maurizio Muscarà, lascia il comando del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari per assumere un importante incarico di staff presso il comando aeronavale centrale di Roma, deputato alla gestione delle operazioni aeronavali internazionali e al coordinamento delle missioni condotte sotto legida dell'agenzia europea Frontex. I tre anni al comando del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, che ha competenze in vari settori di servizio per l'intera regione Puglia e per la vicina provincia di Matera, sono stati per l'ufficiale particolarmente intensi. Numerosissimi risultati e le brillanti operazioni delle fiamme gialle nel campo della pulizia economico-finanziaria, nel settore marittimo, nel contrasto alle forme di legalità via mare come il traffico di droga e di migranti irregolari. Inoltre, importanti iniziative operative in materia di tutela dell'ambiente e del territorio sono state dall'ufficiale viate, ovvero sviluppate ulteriormente, dove già in corso. È il caso di ricordare quanto svolto dalla componente specialistica del corpo nell'ambito degli accordi in atto con la regione Puglia in materia di tutela dell'ambiente, che vedono in modo sinergico coinvolte anche altre forze di polizia e istituzioni scientifiche. Il nuovo comandante, proveniente da Roan di Vibo Valencia, 47 anni, è entrato in Accademia nel 1988, laureato in Scienze Sicurezza Economica Finanziaria, ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi di comando in Italia e all'estero.